Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ammetto che avrei voluto parlare di quello di cui parleremo oggi qualche giorno fa, però con l'inizio della scuola, tra l'altro quest'anno sono all'ultimo anno, mi toccherà fare la maturità, e vi anticipo già che ci saranno molti meno video in confronto agli altri anni, soprattutto nella parte finale dell'anno scolastico, perché appunto mi toccherà fare l'esame, e sto già tutto in ansia adesso, non voglio parlarne, sinceramente. Comunque ho voluto fare questa premessa, in ogni caso, voglio parlarvi oggi delle re-release di Spider-Man No Way Home e di Avatar. Uscite al cinema che si sono tenute la scorsa settimana. Ve ne voglio parlare sia perché sono entrambe delle re-release, ma anche perché ho usufruito della promozione Cinema in Festa, quindi ogni film in sala a 3,50€, per vedere questi due film. Ho visto anche il film dei soldi spicci, Un mondo sotto social, ma non vorrei parlare di quel film perché no. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito a seguirmi su tutti gli altri miei social, trovate i link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione, assieme al link di Pampling, dove da oggi troverete questa fantastica t-shirt di Ashbulla, un fenomeno del web che, se non conoscete, regà, dovete farvi una cultura. Comunque ci sono tantissime altre t-shirt, tantissimi altri design, non solo sulle t-shirt, anche sulle calze, sui poster, sugli zaini, tazze e tanto altro. E con il codice ILPENSIERO4, al momento del pagamento, avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel vostro carrello, e queste calze vi costeranno 0€, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Ma adesso parliamo di questi due film, di queste due rirelease. Quella di Spider-Man No Way Home, vorrei iniziare prima con quello, e poi passiamo a quella di Avatar. Spider-Man No Way Home, The More Stuff Fan Version, se non sbaglio si chiama così la rirelease. Comunque, Spider-Man No Way Home, penso lo sapete tutti, è l'ultimo film di Spider-Man uscito finora, quello con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, tutti assieme nello stesso film, che ha diviso praticamente tutti. Per quanto mi riguarda, potete tranquillamente andare a vedere la recensione del film uscita a dicembre, l'ho visto, non l'ho visto esattamente all'uscita, e questo mi è dispiaciuto molto, l'ho visto qualche settimana dopo, e ho rilasciato la recensione un po' in ritardo, però è comunque pubblicata, e anzi è la recensione più lunga di questo canale. Da quel video potete vedere che il film mi era piaciuto molto, nonostante non lo definissi un film, perché no, non è un film, assolutamente. Poi, quando poi è stato annunciato il Blu-ray, non c'è bisogno che ripeta veramente tutto questo trascorso, perché praticamente quasi tutti i miei colleghi youtubers l'hanno già detto miliardi di volte nei video, però nel Blu-ray avevano promesso delle scene aggiuntive, con tanto diminutaggio se non sbaglio, avevano detto che ci sarebbero stati 15 minuti di scene tagliate, e no, c'era una piccola postilla, i contenuti speciali potrebbero cambiare da un momento all'altro, praticamente era questo il sottotesto, e infatti sono state levate queste scene, perché qualcuno alla Sony avrà pensato, ma scusa, per quale motivo noi dovremmo mettere queste scene nel Blu-ray se possiamo fonderle effettivamente con il film uscito per rimandarlo al cinema e fare ancora più soldi? E così hanno fatto. Queste scene, e in realtà nemmeno tutte, secondo alcuni rumor, sono state inserite nel film che avevamo visto tutti a dicembre, per poi essere rilasciato di nuovo al... questo mese, appunto settembre. In America è uscito l'1 settembre, da noi è uscito solamente dal 18 fino al 22, se non sbaglio. Comunque, Spider-Man Home ce lo siamo ritrovati di nuovo al cinema con delle nuove scene, delle scene divertentissime, almeno da quanto viene esplicitato nel titolo di questa re-release. Non è così, non sono scene divertenti, assolutamente. Sono delle aggiunte anche inutili, forse qualcuna fa sorridere ogni tanto, ma per lo più ci sono due palle così, soprattutto i siparietti inutili con Betty Brent che intervista quello, fa delle battutine stupide, solite, di questi film di Tom Holland, e in più mi sono anche pentito di aver rivisto il film, perché l'ho rivalutato. Ve lo dico, eh, non è il primo re-watch che faccio di Spider-Man No Way Home, è la quarta volta che lo vedo, però questa volta non so per quale motivo mi sono gonfiato totalmente, era una palla, soprattutto la parte iniziale, mamma mia, non finiva mai. E non sto scherzando, davvero, in confronto al video pubblicato a dicembre, alla recensione ufficiale di Spider-Man No Way Home, senza Morstan, Morphanster, quello che è, va bene, mi sono un po' incartato, senza scene divertentissime aggiunte, ecco, sembro una persona totalmente diversa con un'opinione totalmente diversa, ripeto, e sinceramente in piccola parte sono anche contento di aver ancor più aperto gli occhi, perché sì, durante la prima visione avevo trovato tantissimi problemi, cose che non mi erano piaciute, ma ci sono passato su perché, vabbè dai, è un film di Spider-Man, ci sono i tre Spider-Man, con questa versione, con questa nuova versione, con questa nuova visione in generale, ho spalancato gli occhi, sarà che appunto, rivedendoli in sala, non c'è più tutto quell'hype che c'era a dicembre 2021, sarà che sapevo già come sarebbe andata a finire, nonostante le scene aggiuntive che comunque non aggiungono niente, ma raga, che noia, dura se non sbaglio due ore e quaranta, quasi due ore e quaranta, due ore e cinquanta, comunque una palla assurda, e anzi, ho rivalutato tantissimo anche l'entrata in scena di Andrew Garfield e Tobey Maguire, qualcosa di più inutile non potevano fare, c'erano tantissimi modi per poter fare entrare i due in scena, Tom Holland in difficoltà in una battaglia, non magari quella finale, perché vedere i tre assieme fin dall'inizio nella battaglia finale ci poteva stare, ma vedere lo Spider-Man di Tom Holland in difficoltà in una battaglia, e noi sappiamo che comunque Tobey Maguire e Andrew Garfield erano già in quell'universo, non è che è stato Ned a portarli lì, e vederli magari salvare quello Spider-Man assieme, così totalmente di sorpresa, sì, anche quella che abbiamo visto nel film, alla fine sapevamo tutti, ci sarebbero stati loro due, ma è stata una sorpresa, però la messa in scena è qualcosa di terribile. E allo stesso tempo potrei dirvi che in generale tutte le scene di combattimento dei tre Spider-Man non hanno un minimo di epicità, mi spiego meglio. Per quanto mi riguarda con questa seconda visione al cinema, soprattutto nel momento in cui i tre vanno arrivano sulla testa della Statua della Libertà, quella sì dovrebbe essere una scena super epica, bellissima, ma riguardandola non ho avuto quel fomento che ho avuto riguardando per probabilmente la 64esima volta il Avengers Assemble di Captain America in Avengers Endgame. Due cose totalmente diverse e questo spetta tutto anche alla regia del film. Quindi sì, ho nettamente rivalutato in peggio Spider-Man No Way Home. Ed è una cosa che un po' mi dispiace, però hanno voluto loro rilasciare la boring version di Spider-Man No Way Home, quindi non posso farci nulla. Aspettiamoci tra qualche giorno che arrivi l'annuncio, arriverà il Blu-ray di Spider-Man No Way Home, sottotitolo enorme che non voglio ripetere. Poi diranno che nel Blu-ray di questa versione ci saranno le altre scene aggiuntive, come per esempio un combattimento con i tre Spider-Man, in cui abbiamo avuto solamente due frasi, due frasi con Tobey Maguire e Andrew Garfield nella scena che già conoscevamo alla fine. Due frasi, davvero. Niente combattimenti, niente di queste robe. Poi magari metteranno anche la scena Tobey Maguire contro Willem Dafoe. Sto dicendo i nomi degli attori, ma penso mi capiate un po' tutti. Per poi magari levare queste scene e dire ragazzi, arriverà un'altra versione di Spider-Man No Way Home, most boring version Spider-Man No Way Home. Quindi penso che Sony porterà al cinema Spider-Man ogni anno. Comunque ragazzi, effettivamente ho detto anche abbastanza cose per Spider-Man No Way Home, ma adesso vorrei passare a parlare di Avatar, perché per quanto mi riguarda tra le due visioni è quella che mi è piaciuta di più. E devo fare un'ammissione, probabilmente che stupirà tantissimi di voi, non avevo mai visto Avatar al 100% nel miglior modo possibile prima di quest'anno. Prima del 2022 Avatar l'avevo visto solamente a spezzettoni, qualche parte lì, qualche parte là, mai visto totalmente. Certo, ripensandoci mi sono subito pentito, infatti quest'anno che per me è l'anno dei recuperi, ho aggiunto Avatar ai miei bisogni di visione e comunque non è questa la prima volta che lo vedo. La prima volta che l'ho visto era ancora su Disney+, perché in occasione della rirelease l'hanno tolto su Disney+, naturalmente per farlo andare a vedere in sala. Peccato che era un sabato di maggio e ho scelto quel giorno per vedere il film di mattina, anche se non mi sentivo così tanto bene. Ho visto tutto il film e appena finito, 39 di febbre e tampone positivo. Ricorderò per sempre la mia prima visione di Avatar, perché è stata anche la mia prima volta alle prese con il Covid. Prima e al momento unica volta, fortunatamente. Quindi sì, comunque l'ho visto a maggio per la primissima volta per intero, probabilmente potrei aver aggiunto qualche scena io mentalmente, visto che stavo abbastanza male. Si fa per scherzare, naturalmente, anche se mi sono un po' impanicato con questa seconda, con questa rirelease al cinema, perché all'insaputa degli spettatori, almeno a mia insaputa, sono state aggiunte delle scene a favore del sequel, che arriverà il 22 dicembre, se non sbaglio, non vedo l'ora di vederlo. Sono state aggiunte delle scene a favore di quel film e io non me le ricordavo, naturalmente, con la visione covidiata di maggio. Vedere per la primissima volta il film in sala è stato qualcosa di stupendo, anche se non capisco per quale motivo fosse così tanto sfocato. Tra l'altro, guardando un po' in giro, penso che ci sia stata anche una svendita in qualche ottica, perché avevano tutti gli stessi occhiali in quella sala, però il film era sfocato, si vedevano due versi, a parte gli scherzi. Per 3,50 euro l'ho visto anche in 3D ed è stato stupendo, davvero. Non vedo l'ora di vedere il secondo film. Anche perché sempre all'insaputa degli spettatori, o a mia insaputa, è stata aggiunta una scena dopo i titoli di coda. Infatti mi stavo anche alzando e mi sono sentito un po' uno di quelli che si alzano subito dopo la fine di un film Marvel e mi sono pentito e sono rimasto in piedi lì a guardare quella scena con gli occhialini e a quanto pare a seconda delle sale, a seconda delle proiezioni, c'è una scena diversa. Ci sono dieci scene in totale che sono state mostrate e a me è capitata quella del forse figlio di Jake, probabile, non so, vedremo poi in The Way of Water. Mi è capitata la scena del ragazzo Navi che fa amicizia con questa specie simile capodoglio. E la scena sott'acqua in 3D... Ragazzi, di che stiamo parlando? Mica di No Way Home, mi sono pure pentito di aver speso solo 3,50 euro, solo 3,50 euro. Immaginate se avessi dovuto spendere i soliti 7-8 euro per il biglietto. A parte che probabilmente non ci sarei proprio andato perché mi ha dato un po' fastidio la truffa, tra virgolette, del Blu-ray, ma poco importa. La cosa che mi ha scottato di più è la noia che ho provato durante la visione, cosa che assolutamente non è successa con Avatar in 3D. E tra l'altro i film di oggi sono un po' collegati da una certa cosa, oltre al fatto che li ho visti con 3,50 euro l'uno, però l'ultimo film che ho visto in 3D prima di Avatar qualche giorno fa, l'ho visto proprio il 22, è stato Spider-Man Uncoming, film che naturalmente non è prodotto per essere Avatar in 3D. L'ho visto tanto tempo fa, naturalmente non mi ricordo la visione, per me qualcosa in 3D era sempre perfetto, non è che mi facessi problemi, però come la vaga impressione che il livello, la qualità del 3D di Spider-Man Uncoming, scusate, non può arrivare a essere nemmeno un'unghia, un'unghietta piccolina di un navi di Avatar. Avatar al cinema in 3D per quanto mi riguarda, bellissimo. Voglio oltrepassare tutti quelli che dicono sempre che Avatar è un film di merda solo perché è Pocahontas con gli alieni e con robe del genere perché, ok, potrebbe essere anche Pocahontas, potrebbe essere Balla coi lupi, quello che volete, ma chi se ne frega, cioè, da sempre ci sono le trame che si ripetono nei film. La base della trama, naturalmente, non abbiamo Pocahontas in Avatar. E quindi, vorreste dire che Avatar non è stato importantissimo per il cinema? Ditelo pure, appena però vi prenderanno per pazzi, non venite a cercare me. Ma ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video di oggi, è stato un video un po' diverso dal solito perché non mi sono mai messo a parlare davanti alla videocamera così di quello che pensavo senza prepararmi magari un discorso, una recensione, perché questa non è esattamente una recensione, voglio, ho voluto parlare semplicemente del, di questo evento, dell'evento a 3,50 euro e dei film, dei due film che ho visto, voglio cancellare dalla visione il film dei soldi spicci, quindi, nonostante tutto, ho visto solo Spider-Man No Way Home e Avatar, ok? Voglio che lo sappiate anche voi. Prima di chiudere, vi ricordo che in descrizione trovate i link dei miei social, Instagram, Twitter e TikTok tutto in descrizione, assieme al link di Pampling, codice il pensiero 4, per supportare il canale e avere un paio di calze gratis a scelta e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao!